Anche tu fai parte di quel gruppo di persone che hanno ogni giorno mille cose da fare, sanno che devono fare attività sportiva, che dovrebbero un po' leggere e altre altre cose, solo che concretamente il tempo è quello che è. E anche io mi ritrovo a sentire, eh non ho tempo per fare yoga facciale. Beh voglio darti una buona notizia. Lo yoga facciale io lo adoro perché è praticissimo e non devi andare in palestra per farlo, né devi avere attrezzatura specifica, ma ti bastano solo veramente pochi minuti al giorno e il lavoro è fatto. E il bello è che puoi praticarlo anche mentre stai facendo qualcos'altro, come ad esempio puoi praticarlo mentre cucini, oppure mentre leggi un libro, o addirittura mentre fai ginnastica. Insomma basta scuse e inizia a fare lo yoga facciale. Grazie mille! A presto! Grazie mille! Grazie a tutti.